I sindacati si preparano ad organizzare lo sciopero della Teramo Ambiente il prossimo 8 luglio. Ci saranno una serie di picchette, il primo partirà alle 3.30 del mattino. Noi saremo presenti alle 3.30 lì a Carapollo per parlare con tutti gli operatori affinché aderiscano a questo sciopero. Le motivazioni di questo sciopero l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto anche all'azienda. L'azienda non ha voluto sentire ragioni e per cui noi abbiamo deciso che per l'8 luglio ci sarà questa giornata di lotta. Ricordiamo i principali punti di questo sciopero? Intanto il piano ferie che a tutt'oggi ancora non è pronto, i campi di orari di lavoro, tutta una serie di questioni legate anche ai tragitti. Gli operatori non ce la fanno più con questo nuovo calendario, anche per un problema di surplus di lavoro. Noi abbiamo cercato con l'azienda di sederci a un tavolo di trattativa e loro sono stati sordi a tutte le nostre proposte. La CGL inoltre ha anche un appello ai lavoratori. Intanto facciamo l'appello a tutti i lavoratori dell'Ateam, sia gli operai ma anche gli impiegati, affinché aderiscono a questa giornata di lotta. È vero che ci sono rappresentanti dell'RSU all'interno dell'Ateam Ambiente, che sono ovviamente anche dei lavoratori, che stanno avendo delle pressioni da parte della dirigenza dell'Ateam Ambiente? Ma guarda, questo succede in ogni ambiente di lavoro quando c'è uno sciopero o una battaglia. I nostri RSU, tutti gli RSU non hanno né paura né diverranno a nessuna pressione di qualsivoglia dirigente o componente dell'Ateam, che si scordassero che i nostri rappresentanti sindacali possono avere delle pressioni. Perché se lo fanno, noi comunque stiamo pensando eventualmente, se questo succede, se dovesse succedere, di rivolgersi ai nostri avvocati.